con la serie 5 stage 5 le parole chiave sono comfort e prestazione grazie a componenti sviluppati e prodotti nei nostri stabilimenti di fabbrica da un lato abbiamo introdotto una sale anteriore sospeso autolivellante che consente di assorbire al meglio le asperità del terreno e che al tempo stesso massimizza la trazione in campo ma anche le prestazioni frenata su strada dall'altro lato la cabina sospesa meccanicamente dotata di due ammortizzatori posteriori con escursione totale da 96 mm e di barra panar consente di isolare le vibrazioni residue senza però essere soggetta ad oscillazioni laterali che potrebbero essere fastidiose per l'operatore abbiamo introdotto un circuito idraulico con pompa tripla da 82 più 32 litri al minuto che rispetto alla pompa tandem consente di aumentare la portata a parità di regime motore con conseguente riduzione dei consumi inoltre aumenta la portata massima consentendo di avere maggiori prestazioni con il caricatore frontale alle venti controllabile facilmente con il joystick in cabina e con il quale è possibile anche gestire le marce power shift delle trasmissioni hilo e hml